Favorito Baptism 3 sul campo 265 al tot, partiti in questo momento i cavalli del premio Conte Felice Scheibler. Esce velocemente dalle gabbie Chains Breaker che ha al suo interno rotto arc, in prima linea anche la giuba verde cap bianco di Aldro Dovare in quarta posizione, intenzionato a puntare dritto verso la testa della corsa anche Zio Reginaldo che in poche centinaia di metri si porta definitivamente al comando. Baptism favorito si sistema in quarta posizione, in quinta l'altra giuba celeste è quella di Spirit Noir che ha all'interno l'importato inglese Oleksander, poi la femmina Presidenzial Suite, ancora Spygate a chiudere il quadro con Road to Arc che galoppa al centro del gruppo ma staccato rispetto agli altri lungo lo steccato. Queste le prime posizioni con Road to Arc all'interno di Aldro Dovare, Zio Reginaldo che sta galoppando in terza e quarta corsia, seconda linea formata dall'interno verso l'esterno da Chains Breaker con Presidenzial Suite e Clarenzio Fan in settima posizione, la giuba grigia è quella di Spygate a precedere anche Oleksander che ha all'esterno Baptism e Spirit Noir a chiudere il quadro dei partecipanti. Gruppo ben raccolto di 10 quando si va ad imboccare la dirittura d'arrivo Aldro Dovare che è il leggero vantaggio rispetto a Road to Arc che è al suo interno, all'esterno c'è ancora Zio Reginaldo, Presidenzial Suite, Chains Breaker, Spygate che va per corsie più interne, stessa cosa che fa Oleksander mentre all'esterno ci va Clarenzio Fan insieme a Spirit Noir mentre non è della partita Baptism che ha messo giù le mani con Aldro Dovare il leggero vantaggio nei confronti di Road to Arc che è la minaccia più velenosa in questo momento, Presidenzial Suite che prova a far lo spunto rispetto a questi due, tre cavalli che si staccano ma Road to Arc ha preso una lunghezza e mezza di margine rispetto ad Aldro Dovare, Presidenzial Suite che prova a rimanere in quota quando mancano 200 metri al traguardo, c'è una solo ed è quello di Road to Arc che dopo la vittoria incondizionata sta bissando ma soprattutto sta impressionando letteralmente nello Scheibler con il secondo posto catturato da Aldro Dovare e al terzo, Presidenzial Suite. Devastante la performance di Road to Arc, numero 7 dello schieramento a segno, terza vittoria in carriera per il figlio di Planter, Samuele Diana in sella, il training è quello di Agostino Afei, i colori sono quelli dell'avvocato Frattini, 7 al primo posto dunque con la vittoria di Road to Arc, 3 e 13 la quota al totalizzatore, veramente un'impressione devastante nonostante gli ultimi tempi di galoppo siano stati in totale suplesse. Secondo posto per Aldro Dovare, numero 1 dello schieramento e al terzo, Presidenzial Suite, numericamente 7 e 1, 6 all'ordine d'arrivo dello Scheibler. Grazie a tutti. Grazie a tutti